con arbitraggio in sostanza si intende effettuare due o più transazioni su uno strumento finanziario o su uno strumento non finanziario perché l'arbitraggio si può fare sia su strumenti finanziari come per esempio le azioni sia su strumenti non finanziari come per esempio le materie prime è una transazione o meglio sono due o più transazioni che ci conferiranno un guadagno certo grazie a una differenza di prezzo questo cosa significa andiamo a capire allora noi facciamo delle ipotesi ipotizziamo di voler fare arbitraggio per esempio tra azioni e derivati perché l'arbitraggio tra cosa si può fare si può fare per esempio tra azioni e derivati di queste azioni quindi di cui le azioni sono i sottostanti oppure per esempio si può fare di uno stesso diciamo strumento ma quotato in diversi mercati cioè o comunque presente in diversi mercati noi potremmo applicare arbitraggio facendo cosa comprando o vendendo quindi andando long o short delle azioni e in contemporanea perché bisogna farli in contemporanea l'operazione ovviamente comprare o vendere quindi andare long o short ovviamente l'operazione tra uno e l'altro mercato deve essere ovviamente segno opposto di derivati di quelle azioni quindi per esempio prendiamo il future quindi io cosa faccio per esempio se c'è la possibilità di fare arbitraggio compro l'azione vendo il future per esempio solo se ovviamente il sottostante in questo valore sarà più basso rispetto al fair value rispetto al derivato che sarà invece superiore al fair value e adesso vi spiegherò un pochettino meglio anche questo passaggio che è fondamentale adesso per capire meglio tutta questa dinamica che comunque mi rendo conto non sia semplicissima sono andato a vedere un esempio presente sul sito di borsa italiana che per spiegare appunto l'arbitraggio ha fatto l'esempio di un'azione 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 dal costo di 5 euro che ci dà un interesse del 5 per cento e che non distribuirà interessi nei prossimi sei mesi quindi capito questo sempre nell'esempio di borsa italiana abbiamo un future quindi l'esempio di un future che è un derivato il cui sottostante sarebbe questa azione ok questo future che dovrebbe avere un valore pari a 5,12 35 centesimi questo cosa vuol dire vuol dire che applicando tutte le formule della matematica finanziaria il corretto valore quindi il fair value sarebbe 5,12 35 ok quindi capito questo noi possiamo capire che l'arbitraggio quando si potrà effettuare quando ci sarà un future con un valore diverso perché solo in questo caso quindi con un future con un valore diverso noi potremo andare ad applicare arbitraggio e guadagnare di fatto un valore diciamo assicurato quindi avere un guadagno certo ovviamente però non è facile avere questo guadagno certo perché adesso parlandone può sembrare scontato e facile dice ah beh allora capisco un attimo come funziona e poi tac divento ricco miliardario tutti felicissimi no non è così non è così purtroppo perché perché durano pochissimo queste discrepanze di valore durano pochissimo perché ci sono proprio gli arbitraggisti che risolvono lo stesso problema il problema stesso e lo risolvono guadagnando da queste discrepanze perché lo spiego molto semplicemente allora noi abbiamo ovviamente un valore giusto che è il fair value ok ipotizziamo il caso di avere un future con un valore superiore rispetto a questo fair value quindi abbiamo il fair value e abbiamo il future a livello del future e abbiamo quindi invece il sottostante quindi l'azione di questo future che invece è di valore inferiore no quindi cosa succede succede che gli arbitraggisti cosa faranno ovviamente venderanno il derivato compreranno il sottostante e si andrà al fair value viceversa ipotizziamo il caso opposto abbiamo il sottostante che vale di più fair value quindi sotto rispetto a sottostante e abbiamo il derivato in questo caso parliamo di future che invece ha un valore inferiore gli arbitraggisti compreranno il derivato venderanno il sottostante e si raggiungerà il fair value è questo l'arbitraggio ed è questo il motivo per cui dura poco l'arbitraggio quindi essere dei bravi arbitraggisti non è facile anzi è molto difficile proprio perché i momenti in cui applicare queste tecniche durano pochissimo quindi bisogna essere molto bravi anche a cogliere il momento giusto e agire di conseguenza e ovviamente non è una cosa super scontata con questo io direi che è tutto io spero che il video vi sia piaciuto spero che l'abbiate trovato interessante io ovviamente rimango sempre disponibile a rispondere a eventuali domande nei commenti perché non è un argomento semplicissimo non è super scontato può richiedere comunque un certo livello di attenzione e quindi comunque rimango disponibilissimo a eventuali domande nei commenti in ogni caso vi ringrazio per aver guardato il video e vi chiederei un like nel caso in cui vi fosse piaciuto se comunque l'aveste trovato interessante e soprattutto spero utile in ogni caso vi ringrazio nuovamente e vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti